A Borgonovo si brinda con il vino nuovo. Dopo tre anni di fermo causa pandemia, i soci di Cantina Valtidone sono tornati ad organizzare la grande festa che a inizio autunno celebra l'avvio della stagione di commercializzazione del novello Picchio Rosso, primo vino frutto della vendemmia 2023. La festa del novello è un evento per tutti. A partire dalle scuole protagoniste del concorso, crea la tua mascotte a cui hanno partecipato centinaia di alunni e studenti di scuole dalle primarie alle superiori di Piacenza, Lodi, Cremona, Pavia. A tutti loro Cantina Valtidone ha riservato una pioggia di premi in danaro per un totale di circa 13 mila euro per aver creato bellissime mascotte simbolo del lavoro e dei valori di Cantina Valtidone. Io sono felice, sono contento perché riprendere dopo tre anni non è facile e invece i nostri ambienti erano pieni di ragazzi pieni di scuole che hanno partecipato a questo concorso e quindi è un motivo di fiducia per il futuro, per la cantina e per la nostra società. Il filo conduttore della festa è stato ovviamente il vino novello di cui si sono stappate le prime bottiglie. È figlio di una vendemmia calda con anche un calo di produzione, in questo modo abbiamo avuto uve un po' più zuccherine e con tanto colore. Infatti lo si ritrova nel bicchiere con un novello con un colore violaceo intenso e poi però con i suoi classici profumi che si percepiscono subito al naso di fragola e crostata di ciliegia. in bocca questi profumi vengono riconfermati all'assaggio. Testimonial d'eccezione del lavoro dei soci è stato il cantante Francesco Baccini, protagonista di un concerto negli spazi della cooperativa sociale. La festa ha strizzato l'occhio alla solidarietà, il ricavato sarà infatti destinato ad Amop per la ricerca contro il cancro. Domenica la festa in Cantina Valtidone prosegue con visite guidate e nel pomeriggio cabaret e taglio della torta Picchio Rosso.